Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere questa maschera di Equilibra. Come ho detto, questa è una maschera al carbonio, che è una maschera in build-off, cioè che non si sciacqua, che la dovete far seccare sulla pelle e tirarla così. Poi al carbone e all'aloe vera. Poi, come sempre, senza fare bene silicone, pegg, olio, minerali e paraffina, perché sono prodotti pesanti, nocivi, quindi non li hanno messi perché fanno male alla pelle. In dotazione esce anche questa spadolina, che serve per tendere meglio la maschera per il viso, così. Io, vabbè, con questa maschera, fino ad ora mi sono trovata bene, perché non secca, non irrita. E l'applicazione di questa maschera è di due volte a settimana. Un'altra marca che consiglio è questa qui, Oxy XXTQ, non lo so dire perché non sono brava gli francesi. E questa è, come sempre, una maschera al carbone per pelli grasse, che ho pagato 10 euro questa, sui 10 euro 12, non mi ricordo, perché da un anno che la tengo, quindi non ricordo bene il prezzo. Comunque questa è un'altra maschera per pelli grasse e timbure. E anche questa qui era uscita a una spatola in dotazione. E queste due maschere costano intorno ai 10 euro. Io ve le consiglio, sono buone, avrete una pelle liscia e levigata. Allora, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su e seguitemi su Instagram. Ciao a tutti!